buongiorno a tutti benvenuti nel mio canale benvenuti in questo mio nuovo video vi porterò con me da risparmio casa e vi farò vedere tutta una serie di chicche sulle varie promozioni più interessanti di quest'ultimo periodo queste offerte saranno valide fino al 21 di gennaio quindi rimanete connessi seguite il video cliccate mi piace se vi piace questo genere di video e commentate qui sotto se queste offerte vi sono piaciute dopo questo video ne girerò un altro in cui vi farò vedere il mio svuota la spesa quindi rimanete connessi buona visione ragazze volevo provare questo voi avete già avuto modo di provarlo costa 3,39 euro poi 99 centesimi ho visto questo tipo di spugna così non le ho mai prese proviamole pensavo per il bagno e anche lo spray per spolverare di coccolatevi 3,99 euro ragazzi poi c'è l'additivo igienizzante per bucato della valida 1,99 euro sarebbe il dupe del napis anno ci sono i detersivi per i vetri del marchio risparmio casa 88 centesimi vi volevo segnalare il prezzo inoltre ho visto questo sapone nero sgrassatore multiuso con olio di lino sgrassa nutro e fabbrillare 1,59 euro stesso prezzo c'è anche lo sgrassatore universale sia la lavanda che al limone sono in offerta 88 centesimi ragazze vi volevo segnalare questa offerta sul tris di padelle 12,90 oppure 8,80 bis di padelle della natura più friggitrice ad aria ha soli 48,80 della necchi voi cosa ne pensate della friggitrice ad aria? io non l'ho mai usata ma sono molto curiosa di provarla volevo sapere da voi chi di voi la utilizza se vi trovate bene e se i cibi vengono buoni a 2,39 euro ci sono due litri di sapone mani latte e miele aloe argan c'è questa offerta 99 centesima il bagno doccia luxury muschio bianco argan fiore di ciliegio limone zenzero io sto utilizzando questo della sanitina che è un detergente disinfettante al limone ha un buonissimo profumo è un presidio medico chirurgico costa soltanto 1,59 euro ragazze shampoo palmolive 99 centesimi con la fidelity card non li ho mai provati ma questo qua all'oliva ha un profumo appassio molto evidente multi maxi formato 80 lavaggi non è concentrato ma voi mi sapete dire se è buono 3,30 euro vi ho trovato il profumatore bastoncino di tesori d'oriente 5,99 euro c'è sia la profumazione ayurveda hammam e muschio bianco poi candele che figata ragazzi anche il profumatore per i tessuti sempre a 5,99 euro e allora che dite? queste promozioni vi sono piaciute? lasciate come vi ho detto prima un commentino qui sotto e se questo genere di video vi piace fatemelo sapere perché così ne girerò altri vi raccomando vi aspetto nei commenti vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video suota la spesa ciao